Snazzicare che significa? Ma poi farei un attimo. Questo è il Snazzicare. Ammazza come Snazzica il bene. Gli è entrato nel ruolo. Ammazza come Snazzica il bene. Ma ti prende in giro le persone che hanno problemi di... di una persona anziana che ha un amico di core che lo prende, lo carica sul prodotto italico e gli fa rubare una giornata, come? Snazzica no? Pezzogna? La povera Pezzogna, è una donna profonda la Pezzogna perché è una donna che va a fondo la cosa, ti dico bene a te? Sì, sì, c'è ragione, esattamente guarda che bello con la palma che ti spalma, la palma che mi spalma? E ti spalma dietro di snazzica più che corna queste sono proprio palme, ti ho portato qua l'anziano, dalla casa di riposo ogni tanto me lo danno un giorno, una settimana, sì, una settimana, l'autobus ho chiesto prima c'è una corriera che passa qua davanti? Sì, dovrebbe esserci una corriera, dovrebbe arrivare all'anguillare e prendere il treno per arrivare la ruota. I cuochi di solito hanno delle livree bianche e sporche, il professore, quello della camicia da righe, con gli iniziali. La corriera era nel 1928 quando si è andato a te, Geffreche. Potresti andare un po' più piano, no? Eh? Potresti andare un po' più piano col Ferrarino. Eh ma se c'hai prodotto, se tu c'hai Belen ti la freghi o non ti la freghi tutti i giorni? Ah allora, non somma qua è un'altra cosa, non vuoi fare sti paragoni. Guarda che ora? Per quanto andava? Piano, piano. Piano, piano. Piano, piano. 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 Poco a quinici minuti. Il tempo giusto? Il tempo giusto perché c'è trappico. Il tempo? Il tempo? Ah ma te. Che hai deciso? Bella per te, bella la pezzogna all'acquarella, small water, si mangia la paura e si spende poco. Se fai il video è gratis. Grazie a tutti